Forse le abbiamo portato fortuna noi, ma di sicuro lei ci ha messo classe ed eleganza, oltre che tutta la sua bellezza, acqua e sapone. Così Michela Albiani, ventenne a retina doc, è stata eletta ieri sera a Casciana Terme, Miss Toscana, dalla giuria presieduta da Catherine Spuck. Michela, alta 1,70 m, occhi azzurri, lunghi capelli castani, dopo averci provato nel 2008, questa volta è riuscita a centrare l'obiettivo di accedere alla finale di Salzo Maggiore. Terminati gli studi, Michela coltiva il sogno di diventare presentatrice televisiva, ma le piace anche il cinema, mentre il mondo della moda la attira un po' meno. Nella serata della finale, presentata da Carlo Conti, Michela Albiani ha sbaragliato la guerritissima concorrenza e la sua vittoria è stata festeggiata con una pioggia di coriandoli dorati quando ha raccolto il testimone di Ilenia Neri, di Persignano, che si aggiudicò la fascia lo scorso anno. La nostra Miss era stata già eletta Miss Cinema al Museo Piaggio di Ponte d'Era lo scorso 11 agosto. Adesso saranno 14 le ragazze toscane che, in virtù di varie fasce vinte durante le selezioni che si sono svolte durante l'estate, potranno avere successo alla serata di Montecatini.